Aspetta, forse ho un'idea... Mmm... Posso immaginare... Così, eh? Ottimo! Sì, chissà poi cos'è che pensano sti qua, ma non so... Tanto sono tutti bot... Vabbè, poi se facciamo così sta ancora meglio... Allora, signora, a qualche seno può... Salve... E sto qua che sbatta la testa contro il proverso... Ops, ho sparato... Per sbaglio... Certo! E' bello anche qui, ragazzi, qui Wolf... E...33... Siamo su... GTA... No, GTA V... Ragazzi, come sapete, questo qua è un covo di hippie... E a Trevor non gli piacciono tanto gli hippie... Quindi... Insomma... Cosa dire... Ecco... Quindi... Sì... Che poi... Cioè dovevano... Teoricamente... Cioè doveva proprio saltare e andare a tutto il mondo... Dettagli... Ma dov'è che l'abbiamo lasciato? Chi? Il quad... Non c'è più quad... Eh... La mappa si è aggiornata... L'ho fatto pure in tempo a crashare i pc... Che questo qua è la seconda volta che facciamo il video... Quindi... Qua c'è... Che andavamo poi io per le montagne con un quad... Vabbè... Vediamo cosa succede se lo facciamo... Non è la stessa cosa... No... Vabbè... Fa anche fatica ad andare... Sto qua sarà il video più... Più sdrogheggiante e lento di sempre... Vabbè... Qui... Qui va... Fa schifo sto coso... Io non si è neanche fatto un danno... Sì... Attimo... Lo lasciamo lì... Puoi rubare i 3 in GTA 5? Purtroppo no... Cazzo... Ma in GTA 3 si poteva... Perché qua no? No... Giusto... È stessa cosa... 3 San Andreas... No... Sì... Non ho mica fatto GTA 3... GTA 3... No... No... Giusto... Quindi GTA 2... San Andreas... Lascia stare... Vabbè... È uguale insomma... No... Sì... Vabbè... Dettagli... Dettagli tecnici... Uh... Quindi ragazzi... Do la conferma... Ho finito la storia di GTA... 5... Di già... Sì... Dopo neanche un mese di gioco... Praticamente sì... Abbiamo... Vespucci... Vigilante... Paracarutismo... Tutte le variazioni... Poi ragazzi faremo... Ho... Una gara di moto... E noi partecipiamo logicamente... A modo nostro... Scusa... Si è radunato un po' di gente... Ci suona... Ci suona... Viacchi... Sì... Anche a me... Allora... Ehm... Niente... A questo punto... Magari una bella granata a gas... Lanciata in aria... Giusto... Per vedere qua... Non c'è nessuno... Bottare soprattutto... Le impennate... La radio... Soprattutto... Che si sente come si sente sulle auto... La luna... Che poi... E... Ups... La luna... E altre cose... Adesso ragazzi... Proviamo... A guidarmi in modo... Un pochettino strano... Ma fa niente... Come guida veramente tregua? Allora... Qualcuno... Praticamente... Ci ha scritto... Ci ha scritto... Se ho perso... 3 a 0... Contro Wolf... A FIFA... 2 a 0... A me ha scritto tregua... Si saranno sbagliati... Quindi... Sappiatelo... Era il computer... Che giocava... Non ero io... Se no... Wolf... Faceva tipo... 20 a 0... Per me... Ok... No... L'hai detto tu... No... Per me... E... Vabbè... Poi magari faremo un video... In cui giochiamo a FIFA... Io contro lui... E vediamo... E... Purtroppo... Non ho un altro controller... Giusto... E' vero... Quindi compreremo un altro controller... E' vero apposta... Per fare questo video... Meno con po' il te... Ehm... Ma si... Tanto ci può attaccare... Tutti i controller... Che vuoi... Alla PlayStation 4... E' risaputo... Cioè... Cose normali... Ecco... E' normale che vieni così... Vero... Allora... Ehm... Guidando... Così... Ehm... Ecco... Il capodoglietto... Ma fa culo a tutti... Ehm... Ecco... Ehm... 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 Anche a questa... Anche a quello... Ehm... Ehm... Io vado come cazzo mi fai... Ehm... Ehm... Ecco... Anche a lui... Ma GTA dovrebbe essere un gioco per bravi ragazzi... Quindi... Non so perché abbiano implementato tutte queste funzioni... Diseducative... Ma che... Che... Ehm... 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 Andiamo a riprendere la moto... Ehm... Naturalmente... Bisogna camminare in mezzo alla strada... Ehm... Mi sono accabbiato anch'io però... Ehm... Ehm... Allora... Fatto sto solito sdrugheggiamento che più o meno... Ecco... Puntiamo pure l'arma in aria... O meno di caricare... Allora... Questo... Questo... Ehm... E perché sopra... Dov'è che è puntata la mappa? A caso... Ah... Ottimo... Giusto per vedere dove cacchio andiamo a finire... C'è il copo della polizia Mastella... Ehm... Ehm... Mica ci sta seguendo... È di passaggio... Anzi... Lo facciamo al camionista... Questa sarà adesso lo facciamo al camionista... È proprio lì davanti... Non lo vede oh... Ma... Ma... Ma c'è il camionista... Andavendo a fare se... Aspetta... Proviamo con la pistoletta... Ecco... Naturalmente no... Ci ricercano... Qualcuno ha tirato giù un panno... Naturalmente ragazzi... Ci ricercano come sempre... Ecco... Così si fa... Fucile a canne motze... Oh... Ok... E... Detto questo... Io vorrei da fare una domanda a Wolf... A nome di... Anonimi che ci... Ci hanno sempre scritto... Che poi in realtà... Quando io dico ci hanno scritto... Intendo che ne hanno parlato i miei compagni di classe... Allora... Ehm... Wolf... Se io voglio comprare delle bombe adesive... O comunque far... Trovare delle bombe adesive... Come faccio in GTA 5? Apri pure bombe... E poi sono... Non sono infinite... Giusto? Eh no... Ma sono 25... E quindi dov'è che le trovi? Nell'alberia... Ok... Questi erano le mie domande... Aspetta... Lo facciamo a Quickster... E sei spaventata? Si... Cose strane... E se ne frega... Ah no... Aspetta... Proviamo a farla fuori... Non ne frega niente... Facciamo... Sì... Vabbè... Siamo naturalmente incontrovato... Vabbè... Capita... A volte... Si... Per chi non lo sapesse... Ho lì la rispetto... Deve ricordarlo... Comunque ragazzi... Anche se... Anche se... Non l'ho prenotata... Posso utilizzare... Il... 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 Ottimo... Basta solo trovarlo... Ho messo la cruda... Ehm... Io... C'ho messo la cruda... Ehm... sì che per chi se lo chiedesse l'hanno introdotto in gta quinto peccato che se ne sono accorti soltanto adesso sblocchi anche le missioni facendolo magari no che peccato una missione fa il lito meglio agli autisti sembra una sfida di call of duty dove è il dirigibile posteggiato qua posteggiato vediamo questo era è una roba veramente mostruosa ma dov'è che devo passare dentro lì mi pare l'ho ecco l'hanno sbarrato la pena devi saltar da qualche parte non c'è niente da fare cavolo della pistola cavolo a tappi vai 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 scusa ma siamo in ipoto sì ma cacchio ma potevano anche mettere un po' meno sparre ma secondo me qua da qualche parte c'è un posto dove passarti naturalmente non l'ho visto è logico comunque non so fai qualche barato in cerca su internet no sono curioso di vedere il dirigibile che per chi non lo sapesse si sbloca con un codice l'elio non è esplosivo con un codice logico perché di default non puoi sbloccarlo giusto neanche ecco è una cosa personale cioè privata fa schifo però è utile insomma per farsi un giretto la notte quando oggi avete un cazzo migliore a fare è bellissimo quando ci puoi caricare anche sopra la gente tipo che trascini il corpo lo metti sopra e poi sali da da già scorsi due momenti belli ecco dovremmo farli non fa un video dove c'erano momenti belli scusi beh insomma la vista è bella io mi lancierei giù da qua è giusto un pochino più in alto allora ci mette un pochino a salire come vedete la vista di che città è? Los Santos Los Santos lo dice ah è vero no l'ho riconosciuto dall'aeroporto che è quello lì perché ecco il diabolo Jacopo mi ha giocato San Andreas no sì lo riconosco all'aeroporto perché è identico a quello di Los Santos no perché è identico sì non sai chi sei dicendo vabbè più o meno perché visto dall'alto sembra gli aeroporti e poi andiamo qua a casa ma guarda luce ma che sa com'è che fa illuminare così una scritta ma va è per farti vedere la scritta ma in realtà ci sono degli alieni io usavo questo sistema per muovermi velocemente col paracadute e doveva essere fighissimo quella vuoi provare a fare un salto col paracadute un giorno eh sì poi però voglio che il paracadute si apra sulla macchina sulla macchina sulla macchina ce la faccio secondo te dai su una macchina su una macchina su un treno ecco sei andato a fare in culo aspetti che sfiga eh ti hanno pure cattato tu sei una vittima della strada oh signore sei una vittima una vittima mi dia mi dia un passaggio mi dia un passaggio ma perché nessuno ci vuole dare un passaggio ora sono è tutto normale no tranquilli ragazzi è tutto normale eh ops io scamperei tanto abbiamo l'invincibilità dettagli ottimo per aver fatto splander tre veicoli vinci un premio tre stelle uo ma siete tutte e due e va ancora avanti eh sì perché ah è vero è vero l'avevo letto e la cosa le cose più strane è che ci sono pure i veicoli che si guidano anche quando tu cidi il passeggero tipo c'era delle missioni in by city in by city dove doveva andare a scattare delle foto a casa del governatore e c'era il taxi che ti doveva portare a casa del governatore se tu uccidevi il tassista e poi salivi miracolosamente il taxi ti portava a destinazione ugualmente senza che tu dovessi far niente e poi cos'è che succedeva non mi ricordo forse era morto il governatore o dei bug strani ecco cercatelo su internet bug strano gta by city governatore è morto non avevi invincibilità eh sì ma non funziona dentro la macchina che sfiga che sfiga povero io sto facendo i nodi tedeschi con con il nodo con le cuffie e lo schermo e il pc si sta spegnendo così poi quando si spegne e crasha e è in registrazione ancora appoggiato tre minuti comunque ragazzi prima ho avuto qualche piccolissimo problema del tipo che jacopo mi si diverte a trollare allora prima per sbaglio col touchpad del portatile il console era selezionato su stop al video e io invece ho appoggiato lì ne ho appoggiato tre quindi mi ha fatto click e si è fermato esattamente come adesso in cui ne ho appoggiato ancora una volta tre ed è partito improvvisamente quindi è stato tutto un troll del touchpad non è colpa mia e niente non è mai colpa tua no è mai colpa mia io sono santo come vabbè garage pieno adesso vi poicherei di farvi vedere le altre c'è il un attimo allora scusate abbiamo dei problemi è sotto bravo 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 ma ce la fai toh tira toh lascia andare adesso togli il piede comunque il quale ok allora comunque il quale la usiamo quella bella quella bella quella bella la distruggiamo però eh io te lo riusiamo quella però la distruggiamo no no la vediamo ancora modificando che peggio aspetta facciamo una cosa possiamo vedere se si può modificare il monster si allora facciamo una delle più grandi prove al mondo eravamo circa 13 minuti quindi siamo fattati andiamo a modificare l'auto vediamo secondo me magari non c'entra neanche se no rubiamo una macchina qualsiasi modifichiamo la macca si chiama macca veramente infatti la lamborghini è la macca che produce mucche è una marca che produce mucche da 1960 mezzi di locomozione e mucche insomma cosa volete che sia locomozione voi pensate produce locomotive invece no è mucche è proprio infatti il nuovo modello vacca che contiene 3 cavalli perché la mucca si è inculata 3 cavalli e e niente insomma questo qua sarà un'aio abbastanza la vacca 3 cavalli facciamo 300 dato che la vacca quanti cavalli ha la vacca 500 cavalli perché la vacca non ci credo si può modificare perché la vacca si è inculata a 500 cavalli allora io direi di mettere va bene armatura freni in gara tutto ecco dai così che è indistruttibile telai in copri il pick up il pick up ti protegge di più eh fermi in tempo sta fatta mia motori eh scherzi la griglia oh il clacson lo voglio la pagliaccio no questa è qua sentire no io volevo quello da pagliaccio com'è che era quello da pagliaccio no fammi sentire quello da pagliaccio no lo mettiamo un bel nero opaco ottimo possiamo ritoccare a tutti i colori tanto non ce ne frega niente comunque vabbè non salviamo passione non salviamo no poi abbiamo cosa queste cose ottimo no vabbè tanto non ce ne frega i freni adesso si vedono i freni il fumo lo voglio rosso no il fumo lo voglio ciao no facciamo che è bello visibile e finistrini molto cioè ti aggiunge il colorante al fumo praticamente si avere una macchina così al giorno d'oggi tutti i politici dovrebbero aver niente ecco beh anche se io pensavo un altro tipo di autoblum un po' più lunghe con dentro magari dei contenitori tipo porta corpo e di quelli che poi si chiudono e si mettono sotto terra però vabbè i dettagli tutti i politici dovrebbero avere una macchina blu di quel tipo naturalmente voi non lo sentirete perché è basso vabbè il claxon va anche in acqua stiamo già iniziando a romperla allora aspetta adesso ho quale so ragione che ribelle ecco chi ha messo ste rotaie proprio qui cioè tu stai sempre passeggiando in pace e trovi sempre quello coglione che ti mette il rotaio in mezzo alla strada ah no quindi ogni volta che il freno accelera quando è teoricamente fa il fumo normale eh perché quando freni fa il fumo la macchina no normale ma tipo a me una volta è successo rimanere con la macchina ribaltata ma poi come si fa a metterla normale questa qua la metterla normale la bella sora ottimo e tutte si normale come fa ah ho capito poi vabbè il fumo che naturalmente a qualche po' non fa niente no no perché ci hanno aggiunto il colorante no perché vedi che entra tutto si esce esce anche leggermente dalle parti dove non dovrebbe uscire tutte le conne un attimo che adesso passate ecco non dovrebbe tornare a sola questa è spettacolare semplicemente girando il volante purtroppo mi ha rotto il parabrezza la macchina notare non ha neanche un graffio aspetta ecco aspetta salve come va tutto a posto infatti è passata una buona serata il cavolo si è arrabbiato facciamo un inseguimento aspetta facciamo un attimo no aspetta perché ho sbagliato io ritroviamo dal penne spray e alziamo ancora di più le aspetta le sospensioni si ottimo e un'altra domandina poi magari al finale facciamo vedere come so guidare in GTA 5 io dato che non ho mai guidato per ora in GTA 5 anzi non ho mai toccato il controller di GTA 5 quindi magari l'ultimo minutino finale facciamo vedere quanto sono bravo forse forse vediamo se ci sta tanto sono bravissimo io a GTA 5 cioè io sono modestamente un genere e quindi mi sa che sbagliate vabbè tanto qui è come il navigatore che ti ripropone il il percorso il percorso il percorso si tra l'altro ti fa girare anche quando non serve tanto prima o poi girare dovevi quindi beh insomma GTA un gioco geniale che è stato programmato hai sbagliato strada dove andare giusto dove andare scorsiare sinistra e programmato avevi geni tipo me mio padre e mio nonno e basta geni di geni quanti vuoi che ce ne siano al mondo sicuramente non vuoi io mio padre e mio nonno 5 io mio padre e mio nonno perché scusa non sono 5 no no ragazzi bisogna andare in sospensioni ma non succede mai tipo che sbaglia come le donne fa un colpo accelerata qui puoi personalizzare anche le tarche adesso mettiamo teniamo le sospensioni standard e vediamo dove è puntata che forse è la parte un po' davanti aspetta togliamo no no non cambia niente proprio che non uffa ma non finisce mai il carburante in cd5 no allora ragazzi facciamo un'ultima cosa prima di chiudere il video cioè adesso andiamo a prendere la bacca si la lamborghini la mucca la modifichiamo e poi ce ne andiamo in giro con la lamborghini si diverti poi ragazzi in un video prossimamente faremo guidare la coppola che adesso andiamo vedrete che ci sarà da sbanno parte che suonare i claxon parte che a certe cose non serve a niente certe cose tipo ci siamo capiti no che in gta 5 questa cosa qui poi dovrebbero anche averla migliorata cosa poi ti spiego la funzione del claxon poi vedrete il tutorial di wolf che mi farà direttamente in live con tutti i tasti per guidare l'auto quindi c'è da aspettarsi delle cose che sono da sballo cioè sono proprio impossibili automatico se io tipo faccio così e infilo questo qua qui cosa succede ti sparisce l'audio guardate un po' che gas si va e poi ti sembra magari all'ardo ebbio come era come era prima scusate ragazzi ma abbiamo dei problemi con l'audio perché praticamente c'è il cavo dell'audio che non vuole entrare non so se mi sia spiegato sì sì io non riesco ad attaccarlo ok è entrato il cavo dell'audio e a questo proposito praticamente vorrei dirvi non so cos'è che volevo dire niente allora dato che questo video qui praticamente è mezzo muto perché non avevo niente da dirvi facciamo magari un super remix con i suoni della windows ci metteremo sotto ragazzi rubiamo qualche video su youtube i suoni e poi li mettiamo i nostri remix e poi il nostro dj personale tanto appena spray torna come nuovo e poi il nostro dj personale ci farà magari se è d'accordo poi glielo chiederemo un un remix con i suoni della windows magari proprio lui passiamo i suoni ci fa una musichetta qualcosa di simile un qualcosa di tutto nuovo in edito non si sa mai un dj accetta nuove sfide lui no però vabbè che significa pegassi vacca vedi è una mucca con le sospensioni tutti immagini la mucca che fa su e giù poi con i freni e i motori le varite doppia ravvicinata cosa del carboglio in classe è tipo i pagliaccio no è bellissima allora l'accelerazione fa schifo la velocità massima fa schifo perché la velocità massima è così bassa fa schifo questa auto ma c'è l'azione per prendere al massimo si però non mi piace la velocità massima dovrebbe essere la più veloce di tutte questa macchina no la più veloce del gioco allora perché fa così schifo cioè non è proprio la più veloce adesso poi ragazzi vi faremo vedere la più veloce del gioco perché io per guidare voglio quella lì se no non guido vediamo gta 5 auto più veloce vediamo cosa ne salta fuori da internet dovrebbe essere lì la pautia della cubata non riesce a contattare il server ah ma ecco perché non si è connesso al wifi c'è ragione un secondo perché prima era cacciato al pc e praticamente adesso si ok riprova adesso dovrebbe connettersi vado a front permettendo ok non è la bugatti la macchina più veloce del gioco hanno anche scritto si ma stando qua sui binari è guidabile datemi una macchina che vada più veloce di bot che insegue il ladro che gli ha rubato la borsetta no aspettate eh che qui sta ancora caricando è la bugatti gli avion nel gioco si chiama add si adesso poi prossimamente vi farò vedere che la pop ce la faccia un po' riportare recapitare a casa si suggerisce di rubare questa macchina con franklin c'è una zona e la mappa dove la puoi rubare e noi la compriamo perché la bugatti cosa c'è con milione ma c'è di più perché consigliamo franklin perché così si può utilizzare per le gare in alto ah si è vero giusto però fa niente a me non mi interessa tanto devo soltanto guidarla io quindi poi tanto la distruggo quindi non c'è problema prima la compriamo prima la provo io poi la provo io ok naturalmente tutte le cose va modificata con motore livello 4 sospensioni freni e trasmissioni no no non modificata ma non è ancora ma non è ancora al massimo ditemi una macchina che ha la più veloce di Bolt che insegue un ladro che ha fregato il telefono la formula 1 video del best car guidare a pre la bugatti è la più veloce quella che assomiglia alla bugatti truffa ad adder nel gioco è proprio quella che è stata esclusa nel primo posto non è la più veloce ce ne sono di molto più veloci credo di aver chiamato un marchio a truffare sia anche solo un modo per sminuirla la entity la macchina più veloce oh ok l'overflow identity xf ha molta più accelerazione la later in compenso non frena aspetta adesso ultima cosa del video allora per se si truccano allora i freni più potenziati non compensano questo qua questi qua ragazzi ah no facciamo una cosa adesso prossimamente vi faremo vedere tutte queste altre qua allora io direi che praticamente ricompiamo l'overflow d'entity e xf allora prossimamente oltre a quella lì faremo anche vedere il rino e il buzzer d'assalto tutti quanti faremo un video e quelli guido tutti io tanto c'ho i soldi infiniti coi trucchi ma dove sta andando ci sono anche le marche sì ma perché sei su vabbè non voglio neanche saperlo su che cacchio di adesso poi naturalmente vi faremo vedere tutte le varie cose io poi voglio ragazzi direi chiudere qua quindi mettete un like e commentate se il video vi è piaciuto così il voto cattivo non vincerà contro di noi non ci eliminerà già detto quindi bei a tutti da Wolf e da Jacopo Mil